Si riunisce tra poco alle 10 il Consiglio di Amministrazione di Alitalia in quella che potrebbe essere una giornata decisiva per la compagnia aerea italiana le cui sorti sono ancora quanto mai incerte. Con il passare dei giorni infatti le possibilità che il gruppo Air France, KLM, maggiore azionista di Alitalia, partecipi all'aumento di capitale sembrano ridursi sempre di più. A confermarlo sono alcune indiscrezioni circolate ieri al termine del Consiglio di Amministrazione della compagnia francese ad appena 15 giorni dalla scadenza fissata a metà novembre per l'aumento di capitale da 300 milioni di euro. Secondo fonti citate dalla stampa francese i progetti di Air France sarebbero di nuovo in contrasto con quelli del governo e degli azionisti italiani. Tuttavia Parigi sarebbe pronta eventualmente ad intervenire anche fuori tempo massimo con un colpo di coda nel caso Alitalia fosse a corto di liquidità. Si parla anche di una possibile contromossa sempre da parte di Air France che porterebbe addirittura la compagnia d'Oltralpe ad acquistare tutta l'Alitalia. Per questo l'amministratore delegato Alexandre de Junac avrebbe inoltrato ai vertici italiani la richiesta ufficiale per una valutazione approfondita dei conti di Alitalia, operazione finalizzata forse all'acquisto dell'intera compagnia ad un prezzo per i francesi molto conveniente. Ma per il momento Air France ha interesse soprattutto a prendere tempo, a non versare subito i soldi per la ricapitalizzazione e a sondare intanto la disponibilità dei soci minori ad un'opzione di questo tipo e oggi il CDA dovrà valutare tutte le proposte, nessuna esclusa.